La celta di Tortoreto con i suoi 80 dipendenti è salva. Le maestranze non saranno ridotte e la sede tortoretana resterà operativa. Tutto questo è stato possibile grazie all'aggiudicazione dell'azienda teramana alla digital platform e al lavoro di mediazione svolto dai sindacati Cigelle e Cisle di Teramo che hanno garantito i livelli occupazionali. Una buona notizia per la celta? Sì, è stata acquisita la celta dopo due anni di amministrazione straordinaria, un'azienda che viene da un preconcordato, quindi con un buco di fatto un ammanco di 49 milioni di euro, amministrazione straordinaria. Se ricordate anche la Golden Power perché è un'azienda che si occupa di sicurezza internazionale e nazionale e internazionale e dunque soggetta alla Golden Power, finalmente il 28 di settembre la digital platform ha acquisito la celta in modo complessivo, quindi evitando anche la possibilità di essere spacchettata che è quello che noi temevamo innanzitutto. Sottolineiamo che è un risultato positivo per tutti i lavoratori, la setta occupa 80 dipendenti, scongiurando appunto la perdita di posti di lavoro ma soprattutto anche scongiurando la possibilità che un'azienda così importante potesse lasciare la provincia di Teramo. Giovedì scorso la Digital Platforms ha presentato il piano industriale delle organizzazioni sindacali, nazionali e territoriali, un piano industriale che di fatto, così come è stato mostrato, ci risulta essere positivo perché prevede investimenti, prevede il mantenimento di tutte le maestranze, la fine della cassa integrazione e addirittura la possibilità di poter ampliare l'organico della celta, quindi dei dipendenti, è chiaro che bisogna monitorare in questi due anni, perché due anni? Perché l'amministrazione è controllata, questo prevede ci sono due anni in cui è soggetto al comitato di vigilanza, quindi non è possibile toccare assolutamente dipendenti e sedi. In questi due anni dobbiamo monitorare appunto il piano industriale e vedere quali sono le effettive intenzioni, lo faremo così come lo abbiamo fatto, grazie all'apporto della RSU. Ringraziamo un grande applauso a tutta la RSU della Celta, che è stata il motore di tutta questa lotta, di tutta questa grande battaglia, che dura da tre anni con scioperi alla rovescia, cortei, irruzioni al Giro d'Italia, che però ha portato il risultato positivo dell'acquisizione.